Presidente, grazie. Questo non è un momento qualsiasi per quanto riguarda la vita del Parlamento. È un momento precipuo, poiché realizza quello specifico dell'attività del Parlamento, che è l'attività di verifica, di controllo e poi a cascata anche attività di indirizzo per il seguito della vita dell'ordinamento italiano. L'adempimento riguardante il rendiconto e l'assestamento è un adempimento rinnovato che fa seguito alla riforma dei documenti contabili a seguito della legge 163 del 2016. I numeri sono stati elencati, messi in evidenza dai colleghi che hanno parlato prima di me e devo dire con una tecnicalità che è finalmente rispettosa della verità. Noi sappiamo tutti, chi con più esperienza, chi con meno esperienza, che i documenti di bilancio devono rispettare quattro principi fondamentali. La verità coincidente con la veridicità, poi c'è il dato della chiarezza, poi c'è il dato della continuità dei documenti di bilancio e poi c'è il quarto elemento principio che è la prudenza. Allora una discussione sul rendiconto, sull'assestamento, deve essere una discussione nutrita alla luce di questi quattro principi. I documenti di bilancio che stiamo esaminando risultano veritieri, risultano capaci di essere nutriti dalla continuità dei dati e delle informazioni? C'è il principio della chiarezza rispettato e poi c'è il dato della prudenza. La Corte dei Conti, in una lettura che sono sicuro fa parte del patrimonio di tutti i senatori, ha testimoniato cartaceamente, dal punto di vista cartaceo che abbiamo tra le mani, che questi principi sono stati rispettati. C'è poi un appunto che fa la Corte dei Conti rispetto ad un dato riguardante, per esempio, la materia di competenza della mia Commissione, che sono i cosiddetti crediti trattino fiscali coincidenti con il cosiddetto magazzino fiscale, di cui anche ieri abbiamo fatto un'operazione verità con il valente e apprezzato direttore generale nuovo dell'Agenzia delle Entrate. Ed è emerso come, proprio col principio della continuità dei documenti di bilancio, quei crediti sono figurativi, sono nominalistici, non sono incompetenza veritieri, poiché se messi in esercizio, attraverso l'attività contrattuale con l'Agenzia delle Entrate e riscossione, noi correremmo il rischio, anziché avere delle Entrate effettive, di avere dei costi effettivi. Allora, su questo, come si coglie l'utilizzo di un momento parlamentare sul rendiconto di bilancio dello Stato? Anche assumendo indirizzi e obiettivi nel seguito della vita parlamentare per dotarci di una norma che ci consenta di razionalizzare il magazzino fiscale nella sua parte non veritiera, per fare un'operazione di riordino, altrimenti noi portiamo avanti una consistenza di potenziale capacità fiscale che non corrisponde alla verità. Ma io ho richiamato prima la legge di riforma sulla contabilità dello Stato. Quella legge di riforma, all'articolo 14, dispone di un comitato fondamentale che deve essere più oggetto di simpatia da parte sia del Governo che da parte dei parlamentari. Quest'articolo 14, in capo all'Istat, pone l'esigenza, necessità amministrativa di insediare un comitato che dia luogo a indicatori per la valutazione dello sviluppo equo e sostenibile. Cioè i numeri di bilancio, quando vengono declinati con operazioni di spesa, devono dare luogo a valle a indicatori che consentono la misurabilità dello sviluppo equo e sostenibile anche attraverso una lettura internazionale di pratiche. E noi su questo dobbiamo fare un'operazione verità. Il documento va approvato poiché è un documento che registra, in termini di assoluta eccezionalità, una rottura che sul piano planetario viene giudicata come una rottura di civiltà. Ed è chiaro che quello ha determinato un disallineamento tra le previsioni e l'effettività poi della spesa. Tant'è che dal primo collega dell'opposizione al collega che ha parlato prima di me di maggioranza mettono in evidenza come alla fine l'operazione finanziaria di Risulta è uno sbilancio circa il coordinamento tra entrate e uscite per circa 300 miliardi di euro. Ma qual è il dato aggiuntivo che noi dobbiamo collocare nella nostra riflessione? Noi dobbiamo porci la domanda come si ricompone, si ricostituisce il bilancio dello Stato. Perché noi lo abbiamo sospeso il bilancio dello Stato. Lo abbiamo sospeso per ragioni di necessità. C'è un ammanco dal punto di vista delle entrate perché con voto parlamentare abbiamo determinato una misura di flessibilità sui doveri delle entrate. Abbiamo determinato uno scostamento che significa indebitamento rispetto al quadro di coordinamento della finanza pubblica italiana ed europea e anche questo è stato oggetto di voto parlamentare per fare in modo da reincontrare una circostanza di economia reale che ridia impulso alla produttività, alla ruota dell'economia che deve ricominciare a girare. Ma che cos'è che noi dobbiamo aggiungere? Fermo restando l'ordine, l'ordine dei documenti contabili che dobbiamo votare. Noi dobbiamo fare in modo che la spesa della finanza pubblica raggiunga obiettivi in tempi realistici. Questo è il dato. C'era un programma con un nome evocativo nell'ordinamento italiano, Bellezza Italia. Io non so chi di voi se lo ricorda. Di sicuro i parlamentari con più lungo corso di me si ricorderanno questo programma, Bellezza Italia. Riguardava i 6.000 campanili italiani. Sapete dove si trova quel programma? Con tutti i documenti contabili in ordine, non ancora genera quell'incontro maestoso di operai, cantieri e cemento che è la trasformazione della realtà. Perché manca un parere di una figura di un ministero molto esigente che non voglio citare per evitare qui di creare antipatia e simpatia. E' un ministero che si rifiuta di stare alle regole dei procedimenti. E' un ministero che ha in odio i tempi del procedimento amministrativo. Ce l'ha proprio in odio, sapendo che la legge 241 del 1990 è esattamente 30 anni fa che è stata resa legge dell'ordinamento. A distanza di 30 anni, 30 giorni, sono abbondantemente sufficienti per istruire un procedimento e definirlo. Eppure non accade. Allora questo ci deve portare a fare una riflessione. Colleghi adulti, senior, io mi considero un collega junior. C'è Casini davanti a me che quasi mi debilita giudicando la sua esperienza. Allora, alla luce di questo, raccogliendo l'esperienza di un gigante della contabilità pubblica, Manin Carabba, magistrato autorevole della Corte dei Conti, che tante volte ha nutrito i documenti contabili di questo Parlamento, Manin Carabba dice che consideriamo risorsa la risorsa finanziaria ed è indiscutibile. C'è un'altra risorsa indiscutibile, la risorsa normativa, per la quale noi dobbiamo osare di più Il provvedimento denominato semplificazioni deve essere più esigente nei confronti della semplificazione attesa dal Paese, anche perché non costa la risorsa normativa, è indeterminata. Soltanto il carico di fatica che impone può produrre una incomprensione. Poi c'è la risorsa organizzativa, la risorsa umana, mancano 500.000 risorse umane alla pubblica amministrazione. Noi non possiamo continuare a produrre programmi, missioni, progetti, pensando che un commissario ad acta risolve tutto. Non è così, è un inganno. C'è bisogno di ridottare competenze, c'è bisogno di allineare modalità procedurali. Io concludo con una annotazione. La luce si accende e mi ricorda che la clessidra mi richiama. Sapete che c'è un comitato al Ministero dei beni culturali che si chiama Comitato per l'assenza dei vincoli. Questo comitato mediamente si riunisce due volte l'anno. E' un bene gravato da un vincolo per essere verificato se il vincolo c'è o meno ha bisogno di quel pronunciamento. Noi dobbiamo fare in modo che i pronunciamenti dei pareri istruttori vengano trattati come nodi di un procedimento da mettere in priorità in agenda. Altrimenti i documenti contabili raccontano di sicuro una verità, ma non è la verità fattuale e tra i 136 obiettivi, misuratori, indicatori che ha vagliato il Ministro dell'Economia e delle Finanze c'è un indicatore, un obiettivo che parla di impatto reale della spesa pubblica. Noi su quell'indicatore rischiamo di essere un partito unitario di maggioranza univoca perché non riusciamo a sfondare il niente della realtà dei problemi della cittadinanza. Allora dobbiamo semplificare, considerare la modifica di norme pigre e tristi come una grande priorità per fare sì che la spesa pubblica venga rendicontata e giudicata.